Possiamo dire che siamo in leggero ritardo per questo mega reveal del nuovissimo item di Cypher PK Ma ci siamo ragazzi, siamo qui e quindi assistiamo a tutto ciò che ha appena droppato Parto subito spedito, mi raccomando un bel pollicione all'insù ed un'iscrizione se ancora non l'aveste fatto Ok, continuazione del primissimo trailer che abbiamo visto qualche mesetto fa E' figo, eccolo Ok E' lì che attende Ma giovane sì Cosa abbiamo appena visto? In poche parole è stato aggiunto un nuovissimo item all'interno del bundle di Cypher E soprattutto ragazzi, l'avrap che abbiamo ricevuto guardando un'oretta di live streaming su sito viola qualche mese sotto fa proprio per lui Verrà aggiunta anch'essa al bundle E quindi coloro che hanno già shoppato il tutto precedentemente avranno uno sconto su quest'ultimo Piccola osservazione ragazzi Da alcuni dettagli mi sono accorto, soprattutto dai movimenti che hanno le skin Che si tratta di trailer non ufficiali da parte di Epic Quindi qualcosa volutamente creata da parte di Cypher ed un team che ha messo in piedi lui stesso Per generare ulteriore hype su tutto ciò Dopodiché è stato presentato ad Epic che ha provato il tutto Ma la cosa mi piace tantissimo ragazzi miei, mi piace proprio il suo impegno nel fare, nel creare tutto ciò Assieme ad una sua squad, quindi tanto di cappello Nonostante ciò non gli si può dire nulla È fatto bene, ben renderizzato, mi piacciono tutte le varie scenette Sì ragazzi, crea hype E tra l'altro io questo video lo avrei dovuto registrare proprio ieri Avrei dovuto reagire a questo trailer con voi proprio ieri nel video mattutino Ma sapevo che dopodiché alle 16 avrei ricevuto quest'item e quindi il deltaplano nel mio armadietto Quindi ragazzi non avrebbe avuto senso Dico ciò perché avremmo visto un oggetto tramite il trailer E poi nulla avremmo potuto assaporare per bene Tato che in questo esatto momento abbiamo il mega punto esclamativo sulla sezione deltaplano Eh sì ragazzi miei, un ringraziamento speciale ad Epic per l'early access riguardo a questo item Ebbene sì ragazzi miei, abbiamo il nuovissimo dragone di CypherPK Che verrà rilasciato proprio domani Al refresh dello shop e quindi 5 febbraio 2023 A quanto pare ragazzi miei, da quel che ho visto su Discord Nella sezione leaks, vi invito ad entrare qua sotto, link in descrizione Il Discord di Martex ragazzi è accessibile a tutti 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 Andiamo a vedere perché dovrebbero esserci due stili selezionabili E quindi clicchiamo su recenti Ed è partito così raga È stato qualcosa di istantaneo, non ho potuto farci nulla Tra l'altro è davvero buffo come il mio deltaplano preferito Ossia un ombrellino della stagione 2 capitolo 1 Dedicato al capodanno cinese Che si poteva ottenere solamente tramite la vittoria Ovviamente questi ombrellini sono dedicati alle vittorie E raffigura un mega dragone Ragazzi Ci sta eh, ci sta Allora Shugoki, il fedele guardiano di CypherPK Sì, il guardiano della montagna Mi ricorda un po' Smaug questa cosa dell'Hobbit Molto bella Allora, due stili come già detto Shugoki e ragazzi lui è fighissimo Fatemi vedere un attimo lo schieramento Ok, avevo visto bene nel trailer Abbiamo un dettaglio che non apprezzo moltissimo E non mi fa impazzire Il fatto che lui si vada a schierare Non lo so ragazzi, guardate un po' L'animazione che tende a proiettarsi poco alla volta Non lo so raga, non mi fa impazzire questa cosa Vediamo il secondo stile Posseduto che va a richiamare ovviamente il secondo colore della skin di Cypher Perché abbiamo due colori sulla sua skin Il rosso che è quello principale Teoricamente è poi il viola Vabbè che sono tutte e due colori del canale Quindi ci sta raga Anche se tra i due Preferisco il viola Perché secondo voi? Perché ovviamente ho un mega reminder del cubo Kevin Ragazzi, tutto ciò che è viola qui su Fortnite Mi fa ricordare solo ed esclusivamente Lui, il cubetto Kevin E ci sta raga, molto bello Tra l'altro fa richiamo ovviamente alla skin Al backpack e tutto ciò che è Cypher Quindi, neppure a farla apposta Non appena vado nella sezione dei deltaplani Guardate, i primi schierati quassù Sono solamente dragoni Ah, è fantastica Ragazzi, qual è il vostro drago preferito su Fortnite? Tra l'altro la maggior parte sono tutti leggendari Lui mi faceva fare dei salti enormi Quando lo schieravo nello shop Cavalca draghi Lui lo avevo totalmente dimenticato ragazzi Ma non ricordavo neppure che esistesse Oh mio Dio Sembra una carta di Yu-Gi-Oh Devo essere sincero Ma scusate, se è digitodrago Ok, lui era anche laggiù Abbiamo il drago Sharon Number one Ma dovrebbero essercene altri Ed infatti il dragacorno Madonna, Madonna, Madonna Ma lo ricordate? Lo ricordate? Questo aveva uno schieramento diverso Da quando fu droppato per la primissima volta, eh? A few moments later Quelli miei erano mesi che non gioinavo La Martex Deathrun La New Movement Martex Deathrun E tra l'altro andrebbero fixate un po' di cosette Perché ad esempio alcuni livelli come il livello 6 Non c'entra nulla Lo so, ma voglio comunicarvelo Sono praticamente impossibili Con qualche aggiornamento Vi assicuro che questa mappa È stata completamente rotta Ma potrebbe ancora Oddio, 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 oddio Si potrebbe completare, eh? Si potrebbe completare in qualche modo Ma è un po' più difficile rispetto alle altre volte Tra l'altro vediamo se Uh, guarda il Martexone del Micorazono come va, eh? Mamma mia lui, eh Schieriamo sto deltaplano e Basta, per favore, non rompetevi più Schieriamo il deltaplano E vabbè, giudicate voi, raga Giudicate questo deltaplano Il suo schieramento, i colori e quant'altro Qua sotto, tra i commenti, con un bel voto, eh? Mi raccomando, andiamo Uh, tre Vediamo, vediamo, vediamo Ragazzi, è gigante Madò Ma c'ho praticamente Smaugne l'armadietto E a proposito di draghi, vedi Neppure a farlo apposta Oggi tutti i draghetti No, mi piace Mi piace, però Vorrei vederlo di notte Anche perché Rende troppo Bello, comunque Non sono un fan di questi deltaplani enormi Però ci sta, ragazzi E poi il drag è il drago Vi mostro subito che cosa intendevo Con dettagli fighissimi Visibili solo di notte Andiamo Dai, raga A mio parere È molto più figo Così Ditemi quello che volete Ma lo preferisco In questa maniera Ragazzi È troppo bello Anche se Come già detto L'ombrellino della vittoria Super basic Super minimal Ragazzi Quello Non si batte E rimarrà per sempre Il mio deltaplano Preferito Davvero Non c'è cosa migliore Di quei deltaplani Sperando vivamente Che il videozzo Fino ad ora Sia stato di vostro Gradimento Andiamo a guardare Velocemente Questo è lo shop Di oggi E vedo tante 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 Vrappozze Allora Il nuovo Chiamiamolo nuovo Ma il vecchio set Chase Carini Chase Che presenta Qui oppure Oppure in un nuovissimo Video Ma tutti Ogni giorno Alle sette Tra nel sabato E la domenica A prestissimo Bellini E come al solito Un salutone Dal vostro Martexone Allora See ya